Con gli ultimi smartphone top di gamma appena presentati sul mercato, devo ammettere che ci stiamo sempre di più avvicinando a quello che sarà lo smartphone tipo del futuro. Vedo un 2019 bello ricco di tecnologia, il 2018 non mi ha entusiasmato particolarmente a livello di innovazioni tecnologiche. Ecco, forse il 2019 è l'anno della svolta per quanto riguarda il capitolo smartphone. Perché? Perché già ho visto un Google Pixel 3, che sia l'XL o il semplice, in gran forma, ecco, loro sono più votati magari alla velocità, alla potenza e alla dimostrazione che anche con non troppe fotocamere si riesce a fare grandissime foto. Ecco, ma effetto wow poco su questi Pixel. Sfido chiunque, sfido voi a dire che i Pixel usciti, la terza generazione, sia bella e fantascientifica. Questo è indiscutibilmente no. Per quanto riguarda l'astuta mela Apple, beh, XS, XS Max, ok, più il Max, devo dirvi che mi ha entusiasmato. Hanno fatto un iPhone grande e potente, quindi magari chi vuole passare dall'X è più portato a passare all'XS Max. Anche solo per un discorso di dimensioni, per avere la parvenza di aver cambiato smartphone, ma anche lì non c'è stato un salto netto. La serie S non è che abbia mai rivoluzionato niente se non migliorato il telefono dell'anno precedente. Ma ci sono due case che stanno facendo benissimo, a mio avviso. Una è Huawei, che con il Mate 20, specialmente modello Pro, ha fatto veramente un capolavoro. Io ho visto la presentazione, purtroppo non dal vivo per motivi lavorativi, ma la versione Pro del Mate 20 è spaziale. L'ho vista e ho detto, wow, ci siamo, ottimo lavoro. Perché? Perché innanzitutto abbiamo una scocca posteriore che è zigrinata, fatta con quel vetro zigrinato, che mi fa impazzire. Lasciamo stare il colore, può piacere o meno, ma il materiale, il touch and feel è rivoluzionato, è innovativo. Almeno l'utente, tenendo in mano lo smartphone, ha qualcosa di nuovo. Ma non finisce lì, perché c'è tanta tecnologia. L'intelligenza artificiale è sempre più intelligente. Alla fine, ragazzi, avremo degli smartphone più intelligenti di noi stessi, che ci diranno loro cosa fare. E noi siamo pigri, quindi vogliamo che lo smartphone faccia tutto e subito. Ed è una cosa positiva, alla fine, perché paghiamo 700-800 euro, forse anche 1000, e pretendiamo che lo smartphone vada molto bene, che non abbia mai incertezze. Mate 20 Pro è l'esempio di un'intelligenza artificiale rinnovata, potenziata. Ha un display eccezionale, con quello sblocco, con l'impronta sul vetro, sotto al display, incredibile, innovazione. Avevano già fatto questo tipo di impronta, ma forse non con questi risultati così ottimali. E sblocco con il volto in 3D. Quindi anche sul panorama Android abbiamo uno sblocco con il 3D, che assicura magari un riconoscimento più preciso, e anche di notte, del nostro bel faccione. Ma non è finita qui, ci sono anche quelle 3 fotocamere che accontentano un po' tutta la clientela, chi vuole la foto bella, chi vuole la foto zoomata, chi vuole la foto col grand'angolo. Ecco, finalmente l'utente potrà sbizzarrirsi con tutta questa tecnologia, che va anche con l'intelligenza artificiale a colorare o meno il soggetto e lo sfondo, messo in bianco e nero un po' artistica come cosa. Però l'effetto pare molto buono e quindi complimenti a Huawei che mi ha veramente stupito quest'anno con il Mate 20 Pro. Si farà pagare ovviamente, mi immagino 900, 999 euro, questa sarà la fascia per l'uscita del Mate 20 Pro, che spero presto di provare. Veramente mi ha colpito tanto. Ma c'è un punto per cui io ho fatto questo video. Il 25 di ottobre ragazzi, perché? Perché a Pechino verrà lanciato finalmente il Mi Mix 3. Mi Mix 3 si sa poco, tanti rumors, niente di ufficiale. Abbiamo visto qualche video, secondo me la forma sarà quella, ormai l'abbiamo vista, si è rivelata, ma le caratteristiche non le sappiamo per certo. Sicuramente monterà uno Snapdragon, quindi mi immagino o l'845 o non so se creeranno una sorpresa all'ultimo secondo. La particolarità del Mi Mix 3 è l'apertura meccanica. Ecco l'ho vista, io ho detto, è il futuro. Non so dirvi magari se sarà un meccanismo longevo nel tempo, perché potrebbe essere soggetto, visto a rotture, alla polvere, ai graffi, un po' come l'Oppo Find X, che aveva inaugurato la categoria futuristica con la fotocamera, che compare dal basso verso l'alto, fuori dalla scocca, in maniera del tutto automatica. Ecco, sul Mi Mix 3 abbiamo l'apertura meccanica. Scorrerà lo schermo verso il basso, la parte posteriore verso in alto e uscirà questa fotocamera anteriore pronta a immortalarvi. Dovrebbe essere una fotocamera sui 20 megapixel da quello che ho letto in giro. RAM, attenzione ragazzi, perché la RAM del Mi Mix 3 dovrebbe essere nel top di gamma addirittura da 10 giga. Quindi alcuni di voi penseranno, accidenti, il mio telefonino a 2 giga, a 3 giga di RAM, il mio computer a 8 giga di RAM, ecco, il Mi Mix 3 potrebbe addirittura battere un notebook. Non è finita qui perché Mi Mix 3 dà anche uno sguardo a quello che sarà la connettività con le SIM, perché è il primo smartphone ad essere compatibile con la tecnologia 5G. Quindi quando uscirà il 5G in Italia, gli utenti che avranno il Mi Mix 3 diranno Ah, io ho il Mi Mix 3, sono già predisposto ad agganciare il segnale, ad andare alla velocità del 5G. Quindi anche questo è uno sguardo al futuro. Quindi, intelligenza artificiale, sblocco con il volto, fotocamera a comparsa meccanica, connettività avanzata e pensata per un domani, per anni che verranno, rendono, secondo me, il Mi Mix 3 un telefono eccezionale, anche perché la MIUI rende un po' l'esperienza sempre più facile, sempre più fluida, insomma, sempre più bella da vedere e io approvo tantissimo questa interfaccia. Anche il Note 9 di Samsung, poveretto, l'ho messo nel dimenticatoio, ma non è quella grandissima innovazione. Ormai Samsung si è un po' stabilizzata su quella linea di Note, di S8, S9, curvato, edge. Ok, sono due anni che Samsung è su quell'altissimo livello. Adesso, secondo me, si deve rinnovare con il futuro S10, altrimenti la pilla di Samsung comincerà a scendere. Abbiamo visto, brava anche LG con il V40, pessima la scelta di non portarlo in Italia o in Europa. Insomma, quindi un LG che lasciamo un po' nel cassetto, un po' nell'angolo e guardiamo un po' questi brand qua che stanno facendo benissimo. Questo per dirvi cosa? Che ormai la tecnologia si è spinta talmente a dei livelli alti che il telefono da 800-1000€, quel range lì, è pensato per un pubblico esigente al massimo. Cioè, che vuole veramente pensare al futuro, che vuole delle features possenti e fuori dal comune. Basti pensare alle fotocamere che escono dalla scocca in maniera meccanica, in maniera automatica, alle triple fotocamere, all'impronta che viene riconosciuta anche sotto, al vetro del display frontale. Insomma, questo è quello che ci riserva il futuro. Mi fa molto piacere che la fascia media comincia a offrire caratteristiche di vita quotidiana. Quindi, una buona navigazione, delle belle foto, delle belle batterie. Quindi, un utente medio non viene mai lasciato a piedi. Diciamocelo, con 200-300€ uno smartphone decente, anzi più che decente, al giorno d'oggi lo prendiamo. Ovviamente, il portafoglio varia in base all'utente, all'età, alle possibilità economiche. Ma questo è un altro discorso. Il futuro, quindi, a Roseo mi è piaciuto veramente tanto l'innovazione che ha portato Huawei e l'innovazione che porterà Xiaomi. Quindi, in bocca al lupo a questi due marchi che stanno prendendo veramente il sopravvento in Italia. E magari Samsung e LG. Magari cercate di innovare un po' di più perché altrimenti comincerete a perdere colpi. Bene, con questo io direi che è tutto. Non mi resta che darvi appuntamento prossimamente con altre recensioni. E' arrivato anche un pacchettino, bello, bello, giallo, tutto da aprire. Lo andiamo a aprire, anzi non lo andiamo a aprire perché vi tengo un pochino in sospeso. Comunque sia, è un telefono. Cosa sarà mai? Di sicuro non è una batteria di pentole. Grazie per l'attenzione ragazzi. Vi rinnovo, l'invito ad iscrivervi al mio canale. Like a palla e ci sentiamo presto. Ciao!